Musica Meritatamente la portitudo al termine di una partita guardinga, prudente, morde e fuggi. Comunque il microfono a Mr. Solendo per un suo commento sul match. Sì, la partita l'abbiamo preparata proprio su questa falsariga principalmente perché sono tante le assenze fra squalifiche e infortuni e dovevamo per forza ricorrere ai giocatori che stanno giocando un attimino di meno ed era prevedibile che non avessero il minutaggio necessario. L'abbiamo interpretato in questo modo sapendo che avanti abbiamo la possibilità di poter far male nelle ripartenze. Così è stato e ci prendiamo i tre punti, secondo me sono effettivamente meritati. Altre volte la portitudo ha disputato grandi match ma è rimasta con un pugno di mosca in mano. Oggi invece ha giocato bene ma finalmente è arrivata la vittoria fuori casa che vale doppio perché scavalca anche i rivali. Il nostro campionato praticamente poteva tranquillamente per quello che abbiamo fatto vedere in campo chiudersi con almeno una posizione playoff. Purtroppo nel momento migliore pur creando tantissime palle e golle negli scontri diretti siamo venuti meno sotto porta e l'abbiamo pagato a caro prezzo perché giochiamo sempre a viso aperto, riusciamo a creare tante palle e golle. Purtroppo ne subiamo pure, oggi forse è l'unica partita che non abbiamo subito gol. Ci resta il rammarico perché per i valori che abbiamo fatto vedere, per quello che ha fatto vedere il campionato, una posizione di playoff la potevamo prendere anche noi. Ancora non è detta l'ultima parola, comunque la salvezza non è stata mai messa in discussione. Sì e questa era la cosa più bella perché la società mi aveva chiesto, ci eravamo prefissati di raggiungerla l'ultimo minuto dell'ultima giornata di campionato. Abbiamo fatto penso un girone di andata strepitoso e abbiamo chiuso già lì il discorso salvezza a mio avviso. Ripeto, volevamo fare qualcosina in più ma per quanto ci riguarda resta qualcosa di straordinario perché sono tanti ragazzi che abbiamo lanciato, sono tanti ragazzi alla prima esperienza in prima categoria, sono davvero pochi quelli che questi campionati li hanno fatti con continuità. Senza bunker, senza muraglie ginesi, senza muri di berlino, ma giocando alla guerra come alla guerra è riuscito a portare in riva allo stretto tre punti veramente utili e necessari. L'ho appena detto, noi la qualità ce l'abbiamo specialmente nelle zone in attacco e se devo far sfruttare i miei calciatori allora devo fare per forza una partita offensiva. Ripeto, oggi è un discorso a parte perché erano troppe le assenze ma di solito giochiamo a viso aperto, riusciamo a fare tantissimi gol, purtroppo qualche volta ne sobbiamo qualcuno in più però abbiamo condotto il campionato ragionando che bisognava fare un gol in più dell'avversario. Ma giocare fuori casa con questo carattere e personalità apre le porte a possibili sogni? Sì, ce la giocheremo fino alla fine anche se è difficile però la cosa che mi interessa di più e che la società visto che si può fare bene mi ha promesso qualcosa che ora qui non sto a dire. I Nicolazzo sono di casa qui al Saverio Spinella di merito Portosalvo, giocatore ma anche arberi. Roberto oggi ha fatto vedere i sorci verdi ai difensori di casa. Sì, sì, comunque è stata una bella partita combattuta, non ci giocavamo niente perché noi oramai la salvezza si può dire che... Non era mai in discussione? No, 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 però è... Diciamo che alla fine la partita penso che è stato il risultato giusto nostro. E ancora non è detta l'ultima parola per quanto riguarda certi sogni di Ercolino? No, no, comunque secondo me i giochi sono fatti da sopra. San Giorgio, Rosarno viaggiano in un altro modo. Qua rimangono 8-7 partite, così giochiamo noi, che dobbiamo fare? Oramai il nostro risultato l'abbiamo fatto, la salvezza. Penso che a 33 o 36 già la salvezza è matematica. I tifosi comunque sognano il salto di categoria, i tifosi della Portituto, forse è prematuro ma... No, 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 già l'abbiamo fatto l'anno scorso con soddisfazione vincendo il campione di seconda. Quest'anno invece la salvezza, l'altro anno chissà, le basi ci sono perché il presidente, comunque uno che la squadra la sa fare, la costruisce bene. Quindi chissà, un altro anno, come andrà. Per la salvezza manca ancora qualche cosa, mister Napoli? Ma diciamo per la matematica servirebbero tre punti, ma noi oggi speravamo nei tre punti non solo per la salvezza, perché volevamo regalare qualcosa di diverso a merito sportivo. Purtroppo il risultato non è quello che avevamo programmato. Ci scusiamo con gli sportivi, con il pubblico. Un palo e un calcio di rigore che poteva essere pischiato più o meno. Allora lasciamo stare le recriminazioni, un palo, un rigore. Secondo me abbiamo fatto uno dei migliori primo tempi della stagione. C'è stato quel piccolo errore di un giocatore che in fase di ripartenza ha steccato. E' rimasto lì il pallone? No, più che rimasto lì veramente ha servito un bel passaggio per l'avversario, se andiamo a riguardare le immagini. Ma un bomber come Spanti non si può concedere troppo spazio? Infatti non gli abbiamo concesso niente, gli abbiamo regalato una palla per andare a segnare. Quindi non è una concessione, è un regalo vero e proprio. Adesso si va a fuori cazzo? Adesso? Il derby della sua città, mister? Ma il derby sicuramente sarà una partita che i ragazzi sentiranno, sia noi che quella della Bovesse. Ci dispiace perché noi con un risultato utile con la Bovesse potevamo ripartire per fare qualcosa di diverso. Anche perché, visto tutte queste disavventure che stanno succedendo nei campionati maggiori, un altro anno ci potrebbe essere qualche opportunità anche per poter, se non vincere il campionato, per poter fare un campionato di promozione. Comunque per una matricola le cose stanno andando male, anzi. Sì, ma il discorso non è che uno dice vabbè sono matricola, ma nel momento in cui uno si trova dopo aver fatto sacrifici da agosto fino ad oggi, non è che si può accontentare solo della salvezza, cerca di fare qualcosa di diverso, di più. Anche perché da qua alla fine devi trovare degli stimoli diversi per i calciatori, perché a me l'elito sportiva si merita qualcosa di diverso, lo stiamo dicendo all'inizio del campionato. Purtroppo oggi abbiamo steccato. Anche perché le assenze hanno fatto la differenza. Allora, professore, non mi faccio questa domanda perché non si tratta né di assenza né di presente. Per me il primo tempo è stato uno dei migliori primo tempi che abbiamo fatto. C'è stato quell'incidente di percorso che ci ha penalizzato. Se no, è normale che sapevamo Bruno Lucera, sapevamo quell'altro. Però chi ha giocato oggi ha fatto una bellissima partita. Vittorio Lombardi, un dirigente della Forte Tuno, è contento oggi sia del risultato che del gioco. Allora, del gioco possiamo sicuramente fare meglio perché comunque abbiamo giocato meglio in tante altre partite. Il risultato sicuramente perché se venite qua con una squadra come il Borgo che corre dal primo al novantesimo e avete dei giocatori assenti perché avevamo quattro assenze pesanti, tra cui un paio di centrocampisti che di solito giocano, allora possiamo essere contentissimi. Anche perché ormai con questa vittoria la salvezza è praticamente in porto. Come penso che non avrà problemi il Borgo perché comunque mancano ormai pochi punti pure a loro. I play-off sono un sogno, un desiderio che cosa? I play-off erano un sogno e sono rimasti un sogno perché non abbiamo la completezza dell'organico per poter fare i play-off. Perdendo con la Scillese e col Catanoso due partite che non dovevamo perdere perché abbiamo avuto tante occasioni per vincere. Quando non vincete quelle partite purtroppo non potete ambire qualcosa di più che sia la salvezza che era comunque l'obiettivo primario dell'inizio stagione. Tuttavia non si può impedire ai tifosi di sognare? Questo sicuramente, ma pure noi vinciamo 4-5 partite e poi ci facciamo i conti. Però sarà difficile perché comunque ora abbiamo il Ravagnese prima in classifica e poi andiamo a Delianovo quindi saranno due partite abbastanza complicate. Però mai dire mai, non si può mai sapere. Avete sbancato un campo difficile? Eh sì, mi rendo conto che vincere qua col Borgo non è stato facile per nessuno. Ci siamo riusciti e in merito ai nostri ragazzi li dobbiamo ringraziare veramente tutti. Tutti quelli che erano in campo, in panchina, che si impegnano durante la settimana. È giusto che possano giocare. Abbiamo giocato con tanti fuori quota oggi. Tra campo e panchina ne avevamo 6-7. Quindi siamo contenti, soprattutto per loro. Con la salvezza quasi acquisita si può pensare a qualcosa di diverso. Noi ci giochiamo tutte le partite in maniera tranquilla. Con questa vittoria siamo più tranquilli, quindi affrontiamo la partita della prossima settimana con Ravagnese in maniera proprio tranquilla, consci, che qualunque tipo di prestazione... L'importante è fare la prestazione, perché con determinate squadre che sono comunque tecnicamente superiore a voi fare la prestazione è una cosa molto importante. Poi il risultato, se c'è un po' di fortuna, può anche venire. La Fortitudo ha giocato bene in difesa in centrocampo e si è resa pericolosa in attacco. Sì, aveva un Nicolazzo con la febbre a 38, che si è sacrificato e ha giocato. Magari questo non lo sapevano in tanti, ha giocato con la febbre a 38, si è sacrificato. E Spanti poi ha fatto la differenza in primo tempo, ha preso quel pallone, gli ha fatto quel bel gol. L'ho pietto. Sì, no, l'altro gol l'ha fatto pizzimenti. Spanti è un giocatore di almeno un paio di categorie superiori. Si è allenato in maniera... Vabbè, comunque il mister Solendo lo sta allenando molto bene, quindi siamo contenti del suo rendimento. Però allenato tre o quattro volte alla settimana potrebbe fare differenza anche in un campione d'eccellenza. Non è il caso di pari complimenti, ma il trainer sta facendo un ottimo lavoro. Il mister è con noi da quando abbiamo fondato la società. Sono questi quattro anni che ho fatto la società e il mister è stato sempre con noi. È stato uno dei pochi allenatori che non è stato mai esonerato. Perché io vedo esoneri in prima categoria, in seconda categoria, che non ci stanno. Cioè, sono cose assurde quelle. Il mister è con noi, siamo contenti. Ha tirato il massimo. Il massimo da tutta la rosa. Oggi vedere comunque alla fine quattro fuori vuoti in campo, di cui uno negli ultimi cinque minuti, in un momento che il Borgo stava comunque pressando, è stata una bella cosa. Emanuele Spanti è il buitre Butraghegno. Salve, salve, buonasera. Quindi non perdona quando gli avversari sbagliano. Diciamo che è stato un rimpallo abbastanza fortunato. Poi siamo stati abbastanza bravi a ribaltare l'azione subito. E poi davanti alla porta, grazie a Dio, sto sbagliando poco ultimamente. E quindi è andata bene. La tifoseria punta ai 15 gol. Io pure punta ai 15 gol. Speriamo più gol possibili per portare la fortitudine più avanti possibile. Poi non dipende solo da me, dipende dagli avversari, dipende dalla giornata, dipende da tutto. I gol arrivano e non arrivano. Però io ci metto tutto l'impegno possibile. Anche perché nel rush finale con la salvezza acquisita tutto potrebbe accadere? Sì, tutto potrebbe accadere. Noi puntiamo sempre al massimo. La salvezza ormai penso che è acquisita sicuramente. Però noi puntiamo sempre al massimo. Poi alla fine faremo i conti su quello che succede. Mister Antonio Cormaci. Per la salvezza non dovrebbero, usiamo il condizionale, esserci problemi. Comunque la partita di oggi va archiviata. Abbiamo sbagliato un match ball perché secondo me saremmo stati vicinissimi alla salvezza se avessimo vinto. Purtroppo a un buon posto del suo palla abbiamo lanciato gli attaccanti avversari in due occasioni e siamo stati puniti. Questo può essere solo un difetto di concentrazione, nient'altro. Un palo o un rigore dubbio? No, loro si sono difesi come dovevano fare, però non gli abbiamo fatto gli assisi per i due golli. Questa è la cosa che non va. Non si può essere disattenti in certe situazioni perché poi gli avversari ti puniscono come è stato. Quindi dobbiamo lavorare su questo perché non esistono partite facili. E quindi ci ritroviamo a dover soffrire fino alla fine perché come dico sempre siamo in grado di perdere e vincere con chiunque. Se però noi non giochiamo come sappiamo o facciamo errori probabilmente come si è visto oggi andiamo in difficoltà e veniamo puniti. La quota salvezza dicono gli esperti a 34. Ma noi appunto oggi se avessimo vinto avremmo raggiunto i 35 punti e allora potevamo festeggiare. Mi dispiace perché oggi era l'ultima partita anche di Martino che va pure lui a lavorare all'estero. Sono tre o quattro giocatori che tentano di sbarcare il Lunario lontano dalla patria. Eh sì perché purtroppo qui siamo abbandonati da tutto e da tutti e quindi un ragazzo di 20-25 anni è giusto se ha la possibilità di andare a trovare fortuna altrove. Qua il problema è grosso e nel nostro territorio soprattutto io dico da Branca Leone fino all'Azzaro proprio siamo a livello lavorativo. C'è una crisi incredibile, la politica non fa niente per cercare di raddrizzare la situazione. La zona più depressa non solo economicamente? No io addirittura ho visto che parlavo nella comunità europea che forse è la zona più depressa d'Europa questo lembo di terra. Quindi cosa dire a un ragazzo che ha la possibilità di andare a guadagnare qualcosa, vivere e mettere qualche soldo da parte. Il calcio è un hobby e quindi è giusto che si vada a cercare fortuna. Lui con noi è stato tre anni. C'è una fuga che non è una fuga di cervelli? È una fuga, è una fuga. Non solo verso il nord ma addirittura al di là delle Alpi? Ormai secondo me il problema è che una volta si andava al nord, ora invece non basta nemmeno perché poi la vita è molto più cara. Quindi si cerca di trovare tra virgoletto un ingaggio più alto e quindi spesso all'estero le cose sono diverse. Magari in Francia, in Costa Azzurra? Sì, questa è una zona che magari c'è crisi ma c'è anche una vita diversa e quindi la vita è più cara ma mensilmente uno riesce a prendere di più. Mancheranno i francesi tra virgolette ma comunque c'è spazio per gli altri? Sì, noi purtroppo ormai ci siamo abituati, noi abbiamo mezza squadra in giro per l'Europa, da Isaiku che è a Londra, Nucera, Liuzzo e ora Martino. Siamo in Francia, probabilmente Principato ci lascerà pure, insomma purtroppo è una situazione che è questa e noi tra virgolette la subiamo però dobbiamo cercare di andare avanti. Fortunatamente abbiamo molti giovani nel rosa della prima squadra che vanno a scuola quindi per il momento diciamo sono costretti tra virgolette a rimanere qua. E il mister Antonio Cormaci il possibile lo fa, l'impossibile anche per i miracoli si sta attrezzando. Purtroppo è così e quindi abbiamo una scuola calcio dietro e piano piano cerchiamo di portare nelle categorie più grandi tutti i ragazzi e quindi viviamo così, non possiamo fare altro. Dispiace solo che Martino ci lascia con una sconfitta, magari per quello che ha dato a questa società, a questa squadra si meritava una cosa, magari una vittoria però. Si è rivisto Ivan Iello dopo un lungo infortunio. Si si da un paio di settimane si sta allenando, ho deciso di metterlo dentro e peccato che non siamo riusciti a pareggiare e soprattutto peccato per i due golli che abbiamo regalato perché poi è chiaro che chi sbaglia o perde ha torto però sicuramente... Domenica bussa alle porte il derby con la Bovese. Eh si, è un derby difficile, loro sono avanti di un bel po' di punti rispetto a noi ma noi come sempre andiamo a giocarcela come ce la siamo giocata oggi.